Venezia. Dunque beh intanto io sono un po' vedo Venezia lontana perché io sono a Libio quindi vedo Venezia di fronte a me. Certo vedo una Venezia bellissima, vedo una Venezia vuota. Per alcuni di noi è una cosa molto bella ma per molte persone è un vero problema. Il turismo non c'è, non si sa quando arriverà. Certo noi veneziani, dico veneziani anche se non sono veneziane e si sente, ma noi abitiamo qui 30 milioni di turisti l'anno erano sinceramente faticosi, la città stava scoppiando quindi il fatto che ci siano meno persone, che dovrebbero arrivare meno persone saranno bene, ma non è possibile tenere la città tutta chiusa come in questo momento. Si comincia a vedere qualcosa, un po' di gente che va al ristorante, il bar, qualche museo ha riaperto. Certo non riaprono i teatri e in cinema. Adesso veniamo anche a questo.